biga che big sono super big buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a pescare al mitico vaia 2 andremo quindi in provincia di brescia e non vediamo l'ora di arrivare e di tentare di fare qualche bellissima cattura dei fantastici pesci di questo lago a tra poco grande enzo maia 2 con andrea come al solito lui viene apprezza un vero pescatore conosce un po' tutti i laghi della zona d'italia guardate siamo qua vaia 2 per la seconda puntata guardate i pesci che buttiamo giù in vaia guarda che marmorata il lacustri guardate i pesci d'italia e adesso faremo una semina diretta forza guarda i pesci guardate che pesci guardate che belli forza forza bambine lacustri fario guardate che pesci libere forza ancora ci abbiamo giù una marmorata grossa così che fa paura guarda la tipologia di pesci guardate che tipologia non so trote lacustri guardate come vanno boom boom forza blupo 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 guardate che mostro la biga guarda questo questo mostro fario guarda che fario questa qua è un maschio guardate che belle, guardate come vanno, ah che maschio quello di Andrea, bellissime, io sono più eccitato di un bambino quando semino questi pesci, ma è uno spettacolo vedere questi colori, questi dimensioni, esatto, dare libertà poi a questi pesci secondo me che sono stati in cattività per tanto tempo, per me è il regalo più grosso che posso fargli, è tipo un'esaltazione del gestore dei laghetti di pesca, guardate che bei pesci, guardate che maschio, guardatelo, via, tranquilli, non li tocchiamo neanche noi con le mani, esce ancora, c'è una marmorata grossa così giamba spettacolo, hai una mano anche? sì, questo è quello lì no? si riesce, e voilà, grande, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, lì, è lì quella lì in acqua, la cia in acqua, sì sì, ha lì, è lì, è un po'? un grande Alessandro che hai aiutato a guadinarla, sığımız è grazie un po', ed eccola, siamo riusciti a scappottare con un'esca di metallo di 4 grammi, l'abbiamo fatta, grandissimo super luca ed è una bella fario ecco la che arriva qua non scappa fario vale eh sì mi piacciono da matti guardate che pesce ragazzi fario bellissima fuori da sotto io ce l'avevo dietro non sono accorto la fila luca oggi sta proprio stimolando ed è bella e c'era la vicina c'era la gemellina andiamo a supportare in calma guadino nooo si è slamata liga che big speriamo che non si slavi sta veramente grossa un tonno se non si slava ok Sì Questa è bella Ecco l'arrivata E vai la big E' spettacolare Una mega mega big Enorme E' in andata Raga spettacolo Super big Colori bellissimi Grande combattimento E siamo riusciti a portarla a riva senza slamarla Con uno spoon Colore azzurro metallizzato Spettacolo Gli lasci una musola Eccola big Non si slama Spettacolo Spettacolo raga Ancora bella Energetica Piano piano Riusciamo ad avvicinare Un altro combattimento Un altro combattimento sorpresa Ho seguito Lo spoon Mentre parlavamo Di pesca E' un altro combattimento Sì Un altro combattimento Mi ha portato fortuna Il mare Sì Parlando del mare Porta fortuna Mi ha portato fettacolo Magari metterlo più in basso Sì Così Esatto Andiamo lì sotto Ecco che arriva Grande Spettacolo Lasciala pure lì Ma che bella Un po' più piccola Di quella di prima Sì Però Sempre un grande pesce Una bella Il pesce La bella mi porti fortuna quando c'è da Guadinalo compari all'improvviso e via eccola lì che se ne va grandi ragazzi vai a due sempre benvenuto il mitico Andrea ai suoi amici forza vai a due e le big big fario eridi è super peci difficili non venite qui a pensare di pescare in piscina forza ragazzi ciao alla prossima bello bello grazie bellissimo